Non sono interessato, non è la mia grande aspirazione a entrare in giunta. Io sono convinto di dover mantenere l'impegno che ho assunto con gli 8.000 siciliani che mi hanno dato la prerogativa di poterli rappresentare, anche perché credo che in una fase complessa come questa non sia importante chi fa l'assessore o quale poltrona occupi. Ma il tema è su che cosa ti vuoi concentrare. Io oggi ho voluto anche utilizzare una frase di Walt Disney, e rubandoli una frase molto bella che è l'unico modo per iniziare a fare delle cose è smettere di parlare e di farle. Io credo che si stia parlando troppo di poltrone, si stia parlando troppo di nomi e si stia continuando ancora a parlare poco di contenuti. Credo che poi Fabrizio Ferrandelli debba portare il proprio contributo non a partire da altri posizionamenti o dal guadagno di alcuni galloni, ma in base ai temi di cui è capace di farsi interpreta ascoltandoli dal territorio. E spesso un assessorato ti fa anche perdere di vista questo. Un assessorato ti settorializza, ti specifici, ti occupi soltanto di un argomento e spesso perdi di vista la molteplicità invece dei bisogni che stanno all'interno di un territorio. Per cui quello che io oggi ho voluto dire è per favore smettiamola con i totonomini, io mi tiro fuori da questo totonomine. Io sono candidato a cambiare la Sicilia, non candidato ad una poltrona.